Anzaldo Trasporti Sistemi Ferroviari Il Sistema Automatico di Metro Copenhagen La Metropolitana Leggera di Dublino linea A più C e B La Midland Metro di Birmingham Il Metro Link di Manchester La Metropolitana di Lima La Metropolitana Leggera di Genova e i filobus della stessa città Le Metropolitane di Roma e Napoli La Linea Circonvesuviana ed altre linee regionali La Linea ad Alta Velocità Roma-Napoli Il Sistema Innovativo di Stream Triest Sono fra le maggiori referenze per impianti già realizzati da ATSF Il know-how della società, congiunto con la lunga tradizione di attività a livello mondiale nel campo elettromeccanico ed elettronico, consente la realizzazione di sistemi completi del tutto corrispondenti alle richieste del cliente ATSF opera nella sede di Napoli e negli uffici di Genova Impiega uno staff di circa 300 dipendenti Ha un portafoglio ordini superiore a 800 milioni di euro Ed un fatturato di circa 320 milioni di euro anno Grazie a tutti